La Procura ieri ha confermato la richiesta di rinvio a giudizio per più di 60 imputati. Sono tutti accusati di aver fatto parte del presunto sistema delle compensazioni fiscali illecite. Gli accertamenti dei PM della Guardia di Finanza si concentrarono sul consulente Rosario Marchese, a sua volta coinvolto nell'inchiesta. Decine di società, principalmente del Nord Italia, sarebbero servite come schermi per arrivare alle compensazioni e assicurare sgravi non dovuti. Da quanto emerso, i modelli F24 venivano inoltrati per ottenere vantaggi destinati agli investimenti in aree svantaggiate che però non ci sarebbero mai stati. Sarebbe stato solo lo specchio usato per raggirare il fisco e i controlli dell'Agenzia delle Entrate che poi però iniziarono a svelare il sistema individuato dagli inquirenti. Il lagù per Roberto Riggio ha respinto tutte le eccezioni preliminari, comprese quelle sulla competenza per territorio. Le difese escludono l'esistenza di un'organizzazione in grado di violare la normativa in materia. Solo due imputati per il tramite dei rispettivi difensori hanno optato per il giudizio abbreviato. Le indagini furono chiuse appunto nei confronti di più di 60 coinvolti. Diversi difensori ieri davanti al GUP hanno già esposto le loro ragioni opponendosi alla richiesta di rinvio a giudizio anche con la presentazione di documentazione. In aula si tornerà a fine marzo. Per la decisione della giudice dell'udienza preliminare, i PM della Procura e i militari della Guardia di Finanza hanno ricostruito un sistema piuttosto sofisticato che avrebbe generato enormi profitti per un ammontare stimato in circa 22 milioni di euro a beneficiare dei servizi anche imprenditori e professionisti locali che secondo gli inquirenti avrebbero tratto consistenti vantaggi fiscali. Il nucleo centrale delle contestazioni è poi stato sviluppato anche da altri investigatori dando vita all'indagine leonessa che ha avuto invece come epicentro investigativo la zona di Brescia.